Consiglio, rinnovo unanime degli uffici di presidenza, confermati presidenti e vicepresidenti delle sette commissioni. Regione, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di legge che rimanda alle disposizioni varate nel 2009. Il fondo accessorio del resto dei dipendenti pubblici, intaccato per 1.900.000 euro nel 2021, sarà incrementato per il 2022. Europa, il Consiglio regionale sostiene l'attivista georgiana Nana Malaschia, la consegna di una targa durante l'incontro nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso. Durante la seduta del Consiglio di martedì 16 maggio sono state rinnovate le cariche istituzionali delle sette commissioni permanenti del Consiglio regionale al termine del passaggio di metà legislatura. Il Presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, ha presieduto alla votazione e all'insediamento degli uffici di presidenza. Oggi è stata l'occasione della riconferma dell'ufficio di presidenza della prima commissione. Sono onorato che mi sia stata confermata la fiducia come Presidente di commissione per questa seconda metà di mandato. Una seconda metà di mandato nella quale ci saranno molte tappe importanti per l'attività della prima commissione. Prima tra tutti l'approvazione del programma regionale di sviluppo che dovrebbe avvenire entro pochi giorni e poi usualmente le tappe della prima commissione che vanno dall'approvazione del bilancio a tutte le variazioni di bilancio ai documenti di economia e finanza, ovvero ai capisaldi di quella che è l'attività finanziaria e quindi anche di governo della nostra regione. Assolutamente soddisfatta per questa riconferma. Sarà un lavoro importante per i prossimi due anni e mezzo, un lavoro che abbiamo iniziato e che ora dobbiamo portare a conclusione con le sfide che abbiamo di fronte sui temi strategici per la nostra regione, quindi il tema del lavoro, il tema delle imprese, il tema dello sviluppo agricolo, turismo, commercio, caccia, quindi tutti quei temi su cui abbiamo pronte anche tante proposte e su cui abbiamo tutta la voglia e l'intenzione di continuare a fare un ottimo lavoro nell'interesse di tutta la Toscana. Sono molto contento, abbiamo fatto un lavoro importante nella prima metà della legislatura regionale con il lavoro degli stati generale della salute, ora è un momento comunque complicato per il sistema sanitario dove ci sono tante sfide sul personale, sugli investimenti, sull'organizzazione del territorio, sull'innovazione tecnologica e quindi ci aspetta un lavoro importante per questa ulteriore metà di legislatura. Sono contento che tutta la Commissione, il Consiglio regionale e tutto, abbia confermato la fiducia nei confronti del lavoro che io e l'Ufficio di Presidenza tutto abbiamo fatto. È venuta sì a una limitata parte della Commissione, ringrazio il Presidente per la proposta, i colleghi non solo per avermi confermato in questo incarico ma per l'aiuto e il supporto che hanno dato durante questi due anni e mezzo. Credo che gli impegni che abbiamo da qui a fine legislatura siano importantissimi, primo fra tutti il piano dei rifiuti che ci vedrà impegnati in sede di audizione di confronti con il territorio, con gli stakeholder, insomma con tutti i soggetti che possono aiutare a dare un piano all'altezza di questa meravigliosa regione. Ce la metteremo tutta nell'ascolto, nella sintesi e con l'aiuto credo dei commissari di maggioranza e di minoranza faremo un buon lavoro. Sono contenta di poter continuare a servire il Consiglio regionale in questa posizione. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi due anni e mezzo, abbiamo avviato gli stati generali della cultura in Toscana che si stanno avviando alla fine. Insomma è stato un periodo denso di scoperte per tanti consiglieri, di familiarizzazione con un mondo che è il mondo del lavoro in campo culturale che a volte sfugge ai più per le dimensioni e per l'importanza di questa quota di lavoratori e devo dire che dopo la pandemia è stato anche bello poter supportare queste categorie di lavoratori che anche nei ristori avevano avuto difficoltà a trovare riconosciute le proprie aspettative e il danno ricevuto. La Commissione Controllo sta recuperando centralità nel lavoro del Consiglio regionale, è una Commissione che si deve occupare di verificare non soltanto la coerenza tra i singoli atti e la programmazione generale dell'ente ma soprattutto esercitare un controllo sugli atti e sulle delibere della Giunta e dei dirigenti e in modo particolare sugli atti e sui contratti degli enti partecipati, cioè delle tante e tantissime aziende che direttamente o indirettamente sono controllate dalla Regione Toscana. È un impegno arduo a cui si somma anche la verifica consuntivo del bilancio generale della Regione e del Consiglio regionale con il giudizio di parifica della Corte dei Conti, quindi un ruolo che insieme al Vice Presidente Pieroni, insieme alla Secretaria Silvia Noferi e a tutti i membri della Commissione stiamo svolgendo, ripeto, tentando di recuperare a questa Commissione il ruolo che le spetta di cerniera tra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta. Le cose da fare sono molte, avevamo già messo in cantiere una serie di attività che puntano sostanzialmente a rafforzare, a dotare di ancora più strumenti operativi questa Commissione e la cosa più importante, alla quale personalmente tengo davvero più di tutto e più di tutti, è quello di continuare a preservare il clima che si respira all'interno della nostra Commissione. Un clima dove le differenze sono elementi di reciproco arricchimento, dove c'è un confronto e un dialogo costante e dove si cerca di lavorare per arrivare a una condivisione degli obiettivi. Questo è l'impegno per la seconda metà della legislatura e sono convinto, tornando a ringraziare le commissarie e i commissari per la fiducia che mi è stata rinnovata, che riusciremo a mantenere questo impegno. La norma di carattere nazionale invocata a dicembre scorso dal Presidente della Regione Eugenio Gianni per risolvere l'annosa questione del trattamento economico del personale a supporto delle strutture politiche di giunta e consiglio è finalmente arrivata e la Toscana abolisce la legge che ha inquadrato 172 dipendenti nel contratto funzioni enti locali. Il fondo accessorio del resto dei dipendenti pubblici, a cui per il 2021 si è attinto per circa 1.900.000 euro, sarà incrementato per l'annualità 2022. Il costo totale del personale di queste strutture di supporto, compreso il trattamento omnicomprensivo dei responsabili, sarà imputato al bilancio regionale a decorrere dal 2023, con clausola di invarianza finanziaria. La legge illustrata in aula dal Presidente della Commissione Bilancio, Giacomo Bugliani, è stata approvata con voto unanime dal Consiglio regionale. Con voto unanime il Consiglio regionale ha deciso di abrogare la legge 2 del 23, consentendo così di superare una questione che aveva animato non poco il dibattito politico e soprattutto una questione che coinvolgeva il personale della Regione Toscana. Con la legge che il Consiglio regionale ha approvato, anche a seguito del Decreto Legge 44 del 23, di pochi giorni fa, si è arrivati quindi a stabilire che il trattamento economico accessorio del personale, degli staff, degli organi politici, del Consiglio regionale e della Giunta, possa gravare direttamente sul bilancio regionale e non più sul fondo del salario accessorio del personale della Regione Toscana. Questo ovviamente è un principio che opererà per il futuro, mentre per il passato, in particolar modo per l'anno 2022, si è stabilito di poter procedere, grazie a questa legge, ad un incremento del fondo del salario accessorio pari alle risorse necessarie per coprire il trattamento economico accessorio del personale, degli staff politici. Si tratta quindi di un atto importante che permette di superare quanto era stato stabilito dalla sezione regionale della Corte dei Conti che aveva sospeso il giudizio di parifica lo scorso anno relativamente al rendiconto del 2021. Lo si era già superato con la legge regionale 2 del 23 che tuttavia aveva generato non poca discussione tra il personale della Regione. Oggi, abrogando quella legge, si mettono da parte anche tutte le questioni e le controversie che hanno caratterizzato il trattamento economico del personale, degli staff e degli organi politici. Sicuramente l'approvazione di questa legge, che di fatto va a sanare una situazione che era derivata da delle censure puntuali che aveva rilevato nei confronti di Regione Toscana la Corte dei Conti, va a sanare che cosa? Quella che era di fatto una disparità di trattamento che vedeva contrapposte da un lato il personale di Regione Toscana e dall'altro lo staff dei gruppi politici. Una questione che ha naturalmente una caratterizzazione decennale e che è stata risolta solamente diciamo qualche settimana fa da parte del Governo. Tutto questo aveva generato un contenzioso, un contenzioso che naturalmente aveva coinvolto Regione Toscana che nelle more di questa sanatoria, perché se così vogliamo definirla, aveva appunto determinato una forte contrapposizione naturalmente anche con una forte contestazione da parte del mondo sindacale. C'è da dire una cosa, questa legge nasce sostanzialmente come una marcia indietro che si fa tenuto conto della normativa sopravvenuta a livello nazionale. Ciò non toglie che il metodo con il quale siamo arrivati a fare il precedente testo di legge, al licenziale precedente testo di legge a gennaio, è stato un metodo che ha visto poca concertazione, soprattutto nel confronto con il personale, sia delle strutture, sia dei gruppi politici. Il Consiglio regionale ha ricevuto l'attivista georgiana Nana Malaschia nell'ambito delle giornate dell'Europa, ad accogliere il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo ed il presidente della Commissione politica europea e relazioni internazionali Francesco Gazzetti, che ha voluto questa iniziativa insieme all'ufficio di presidenza. Durante l'incontro è stata consegnata all'attivista georgiana una targa del Consiglio regionale. Nel darle il benvenuto, il presidente Mazzeo ha definito Nana Malaschia il volto simbolo delle proteste contro la legge filorussa sulla trasparenza dell'influenza straniera. Una battaglia per i diritti, una battaglia per la democrazia, una battaglia perché la Georgia possa far parte dell'Unione Europea. Mi sono emozionato, emozionato nell'ascoltare le parole di una donna che cerca di combattere per la libertà, insieme a tanti altri uomini, insieme a tanti altri ragazzi, insieme a tanti altri ragazzi. La Toscana è sempre stata una terra che non si è mai voltata dall'altra parte e anche oggi con questo riconoscimento abbiamo voluto mandare un messaggio di speranza, la speranza di poter vivere in un mondo migliore, un mondo con più diritti, con più opportunità, in un mondo libero. Il Consiglio regionale, attraverso la Commissione Europa, l'ufficio di presidenza, ha voluto svolgere questa iniziativa che è un momento di incontro, è un momento di ascolto, è un momento che serve anche per raccogliere degli elementi di valutazione. Poi sappiamo perfettamente che i percorsi e le dinamiche dei Paesi appartengono alle comunità e soprattutto a chi ha il compito di guidare le nazioni e ovviamente anche le scelte che devono essere intraprese. Quindi questo per noi rappresenta il modo per, mi verrebbe da dire, semplicemente dire alla signora Nana che abbiamo visto quello che è accaduto in quella piazza, che abbiamo visto il gesto che ha compiuto e che non ne siamo restati indifferenti. Il popolo giorgiano stiamo combattendo per i diritti della libertà, della democrazia e dobbiamo sorpassare tantissimi ostacoli come Paese e stiamo forti nella nostra lotta. Come avevo detto anche nel mio discorso, questa nostra lotta è molto difficile del popolo giorgiano perché come sappiamo anche adesso nel 2023 solo 40 km a distanza dalla capitale giorgiana, Tbilisi c'è la presenza dei militari russi e quindi noi combattiamo per questi diritti per avvicinarci all'Europa in queste condizioni molto difficili. Non è solo la nostra scelta come popolo ma proprio l'idea storica nostra della Georgia come Paese di integrarci nell'Unione Europea e nonostante la difficoltà che abbiamo nonostante gli ostacoli che continuano a metterci la Russia continuiamo con tutta la nostra forza che abbiamo combattere e cercare in ogni modo integrarci nell'Unione Europea. Grazie a tutti!